Adesso c'è un po' di luce mare di nuvole verso la Liguria là il Monte Penna ma io devo andare di là sempre alta via dei Monti Liguri e non so se si sente ma l'acqua dei torrenti scorre quindi proprio freddo freddo non lo fa allora passo dalla spingarda e là il Monte Aione quindi adesso bene o male si riprende a salire senti? niente nessuno che rompe i coglioni si riprende a salire non lo fa non lo fa ma non lo fa così si riprende a salire non lo fa sonia non lo fa non lo fa ma Chilo Hotel 59, referenza Italia, Lima Golf, 340, buon anno. 5SL, buongiorno, buon anno anche a te, arrivi molto bene, il Z1 Juliet Chilo Hotel, il tuo segnale reale dal 57 al 5859 con un po' di QSB, ti ascolto perfettamente. Complimenti per l'attivazione sotto, ancora buon anno, 73, ciao. Ciao 73, buon anno ancora. QRZ. Italia Tango 9, Juliet Golf X3. Perfetto, Italia Tango 9, Juliet Golf X3, mi piacerebbe attivare la 001 della Sicilia. 59 per te. Perfetto, anche te, arrivi 59, bella motivazione, grazie, ciao. Ciao 73, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portatile QRP, fa chiamata in banda a 40 metri, chiama e passi in ascolto. Eco Alpha 7, Yankee Tango. Perfetto, Eco Alpha 7, Yankee Tango, 59, QSL. Eco Alpha 7, Yankee Tango, 59, QSL. QSL, QSL, Alessandro, Eco Alpha 7, Yankee Tango, you see 9, 59, thank you for that and Happy New Year, thank you. Happy New Year to you and your family, bye bye 73, ciao. 9 Alpha 1, Alpha Alpha, 1. Please, stand by, Alpha Alpha, over. 9 Alpha 1, Alpha Alpha. QSL, 9 Alpha 1, Alpha Alpha, 5-9, reference Italy, Lima Golf 3-4-0, QSL. 3-4-0, Roger, ciao, buongiorno Alessandro, 5-9 più per te, grazie. Grazie a te, buongiorno e buon anno, ciao, QRZ. India Lima Hotel, India Lima Hotel, India Lima Hotel, India Lima Hotel, over. Buongiorno e grazie Alessandro, per te 10 di Bio 3-9 a Milano, 5-9 più. Ok, dammi il call completo. Italia, chilometro 2, India Lima Hotel, IK2, India Lima Hotel, QSL. QSL, Italia, chilo 2, India Lima Hotel. Ah, guarda, siamo in ottica dal Monte Aiona, praticamente, con Milano. Quindi il segnale, penso che arrivi decentemente, senza riflessioni. 5-9, buon anno, grazie. Italia, sì, Italia, chilo 1, Delta, Florida Hotel. Ok, Delta, Florida Hotel, avanti. Buongiorno Alessandro, Italia, chilo 1, Delta, Florida Hotel, Roberto, 6-5-9, con il buon anno. Ok, Roberto, 5-9 anche per te, reali, Italia, chilo 1, Delta, Florida Hotel, La referenza Italia Lima Golf, 3-4-0. Ciao e grazie. Italia, azul, 5, Charlie, Papa, chilo. Oh, certamente, Italia, azul, 5, Charlie, Papa, chilo. Da Pontremoli, 5-9, QSL. 5-9, ottimo segnale. Buon anno, Sergio, grazie. 73. 73. Ti saluto anche quel mal mostoso di Pietro. Ciao. Ciao, ciao. Ecco, Alfa, 1, Alfa, Tango. Ea, 1, Alfa, Tango. Ok, Ecco, Alfa, 1, Alfa, Tango, over. Ecco, Alfa, 1, Alfa, Tango, over. Ok, moltissima grazie, Italia, 1, 4, Victor, Chavez, Sierra, barra, QR, P, 5, 9, 73. 73, my friend, 5-9, real report for you. Bye, bye, Happy New Year. Happy New Year. QRZ. Ecco, Alfa, 7, Papa, Yankee. Ok, Ecco, Alfa, 7, Papa, Yankee, 5-9, QSL. 7, Ecco, Alfa, 7, Papa, Yankee, 5-9, per te. Ok, Ecco, Alfa, 7, Papa, Yankee, 5-9, QSL. Sì, ok, grazie, 5-9, felicità, per l'anno nuovo, grazie. Grazie a te, 73, QRZ. Italia, 4, Alfa, Bravo, Golf. Allora, ok, Italia, 4, Alfa, Bravo, Golf, 5-9, QSL. QSL, QSL, Alessandro, 5-9, anche per te, da Italia, 4, Alfa, Bravo, Golf, se vuoi segnare anche qui le gestioni di Ferrara, IQ4, Foxtrot, Alfa, Portatili, QSL. QSL, ha segnato anche IQ4, Foxtrot, Alfa, Barrato, Portatili. Ci mancherebbe. Buon anno e grazie per la chiamata. Sanzia, 5, Livorno, Milano, chilometro. Allora, Livorno, Milano, chilometro, avanti. 5, Livorno, Milano, chilometro. Allora, Italia, 5, Livorno, Milano, chilometro, corretto? Sanzia, 5, Livorno, Milano, chilometro. Ok, sorry, Florida, 5, Livorno, Milano, chilometro. 5-9, QSL. Ok, ok, 5-9, grazie, 1072. Buon anno anche a te, grazie per l'italiano. QRZ. Italia Uniform 4, India Delta Kilo. Italia Uniform 4, India Delta Kilo. 5-9, reale, QSL. QSL, 5-9, anche per te, con il buon anno, ciao. Ciao, 73, ringrazio la signora. QRZ. Z2, chilo, whisky, yankee. Ok, Italia, Zelanda, 2, chilo, whisky, yankee, corretto? 5-9, anche per te, reale, arrivi molto, molto bene. QRZ. QRZ, eco-alfa-2, Lima Università. Ok, eco-alfa-2, Lima Università, 5-9, QSL. Ok, grazie per il 5-9, per te, 5-5, 55. Grazie, buona attivazione, buona fortuna e buon anno nuovo. Ecco, Alpha 2, Lima Università, ciao. Ciao, 73, ovviamente buon anno a te e famiglia. Ciao, grazie ancora. Allora, foxtrot, sento un foxtrot che chiama. Ok, sorry, Foxtrot Bravo, Foxtrot Bravo, over Negative, negative, stand by please, Charlie Foxtrot Bravo, the first part of your call, please QSL, QSL, Yankee Oscar 6, Charlie Foxtrot Bravo, thank you, 5-9 for the log, thank you and happy new year, bye bye Equalfa 2, Delta Tango, over Allora, il tuo rapporto 5-9 reale, Real 5-9, Real 5-9, grazie, ti passo la referenza Italia Lima Golf 3-4-0 e gli auguri di buon anno, ciao 73 Guerra Z Alpha One, Bravo, Romeo Alpha One, over Papa Alpha One, Papa Alpha One, Bravo, Romeo Ok, Papa Alpha One, Bravo, the last letter, the last letter Ok, the Alpha Radio, the first time radio, over Ok, Roger, Papa Alpha One, Bravo Radio, 5-9, QSL Yeah, thank you, you're 5-6, 5-6, 7-2, Happy New Year Thank you, happy new year, bye bye Oscar 2, Papa Delta Tango Ok, Papa Delta Tango, over Oscar Chilo, 2, Papa Delta Tango, QSL, Alessandro Ok, Roger, my friend, Oscar Chilo Chiu, Papa Delta Tango, 5-9, Real 5-9, back to you Rock USL, good morning, your report is 5-8, 5-8, happy new year, 73, good luck 73 to you, and happy new year, bye bye Hotel Bravo 9, we have people in a tempo for Cabile Ok, avanti, un Hotel Bravo 9 Allora, c'è un HB9, HB9 in portatile HB9, Bravo, Italia November, in portatile Ok, HB9, Bravo, Italia November, 5-9, QSL HB9, Bravo Italia November, 5-9, QSL Hotel Bravo 9, Bravo Italia November, portatile, 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 sami, sami, sami 5-9, 5-9, mia referencia Hotel Bravo slash Fox Cross Romeo, 0-2-7 0-2-7 Hotel Bravo slash Victor Romeo, 0-2-7 Il nome è Giorgio, 8-9, Bravo Italia November, portatile, 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 cambio Ok, Giorgio, HB, Hotel Bravo, Stroke, Florida, Radio, 0-2-7, QSL QSL, sì, grazie per l'Italy Lima, 2-3-4-0, buon anno, grazie mille 73, buon anno, ciao Sierra 5-7, India, Lima, Foxtrot Ok, Sierra 5-7, Oxford, Lima, corretto No, Sierra 5-7, India, Lima, Foxtrot Ok, sorry, Sierra 5-7, Italy, Lima, Foxtrot, 5-9, QSL Ok, buon anno anche a te, ciao, grazie Echo Alpha 2, Charlie, Kilowatt X-Ray Ok, Echo Alpha 2, over Echo Alpha 2, Charlie, Kilowatt X-Ray, 5x2, 5x2, over Ok, Echo Alpha 2, Charlie, Kilowatt X-Ray, 5x9, 5x9, back to you Happy New Year, my friend, bye bye Allora, CQ Sota, CQ Sota, CQ Sota, Italia, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, portatile QRP Italia, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, portatile QRP, attivazione Sota Italia 2, Yankee, Kiloradio Ok, Italia 2, Yankee, Kiloradio, 5x9, QSL QSL, buongiorno Alessandro, 5x9, anche per tempi sul Lago Maggiore Ciao, buona giornata, tanti auguri a te famiglia, ciao, grazie Oh, tanti auguri anche a te famiglia, sicuramente avrai una temperatura più gradevole lì giù Ciao, 73 Ok, attenzione, stazione QRP, Italia, Zulanda 4, avanti Ciao, Italia, Whisky 4, ALK, 5x9, 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 per te, Alessandro, buon lavoro, a risentirci Ovviamente metto a log anche la signora, eh Ok, Alfa, Mexico, Tel, over Italia 4, Oscar, Yankee, Uniforme Perfetto, Italia 4, Oscar, Yankee, Uniforme, 5x9, signora, buongiorno 5x9, Alessandro, 5x9, per te, arrivi molto, molto bene, auguri contraccambiati, 73, ciao 73, signora, guardi, è una giornata splendida, c'è un mare di nuvole sotto, spero di non trovare la nebbia quando scendo Comunque è veramente una bellissima giornata Nebbia verso la Liguria, verso la pianura padana è libero Continuo con le chiamate, grazie ancora, ciao Ciao, ciao India, Uniforme, Golf, Kilo, Giuliette Allora, Golf, Kilo, Giuliette, avanti Sì, buongiorno, Italia, Udine, 3, Golf, Kilo, Giuliette, una bomba, è previso, 5x9, 10 per te Ok, anche te arrivi fortissimo, Italia, Uniforme, 3, Golf, Kilo, Giuliette, referenza Italia, Lima, Golf, 3, 4, 0, QSL Ok, Oscar, Eco7, Papa, Hotel, India, corretto Oscar, Eco7, Papa, Hotel, India, Roger Roger, my friend, 5x9, your report, and happy new year, bye bye 5x9, thank you, happy new year, ciao, ciao Allora, Cicusota, Italia, Zulu, 4, Victor, Quebec, Sierra, portatile, QRP, chiama e passi in ascolto 9x4, Mexico, Florida Ok, 9x4, Mexico, Florida, correct? Corretto, corretto, 9x4, Milano, Firenze, 5x9, QSL QSL, QSL, 5x9 anche per te, la referenza Italia, Lima, Golf, 3, 4, 0, e auguri di buon anno, ciao Grazie, grazie, 5x9, 73, ciao, buona giornata QRZ 3, EcoGermani, bravo Allora, EcoGermani, bravo, avanti Sì, avanti, questo è Alessandro, EcoAlpha, 3, EcoGermani, bravo, EcoAlpha, 3, EcoGolf, bravo, Roger Roger, EcoAlpha, 3, EcoGermani, bravo, 5x9 reali, e arrivi veramente una bomba dalla Spagna Auguri di buon anno, ciao Grazie mille per i 59, ciao, buon anno Ciao, 73, QRZ Allora, CQ40, 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 Italia, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, portatele QRP, fa chiamate in banda a 40 metri, attivazione Monte Aiona, referenza Italia, Lima, Golf, 3, 4, 0, Italia, Lima, Golf, 3, 4, 0, chiama e passi in ascolto E niente, tacchiamo col bordello CQ40, 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 Italia, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, portatele QRP, Italia, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, portatele QRP, fa chiamata in banda a 40 metri, attivazione SOTA, referenza Italia, Lima, Golf, 3, 4, 0, chiama e passi in ascolto Hotel Alpha 8, Whisky X-Ray Ok, Papa Alpha, please complete your call Papa Alpha, Papa Alpha, complete your call Hotel Alpha, Hotel Alpha, Eric Whisky X-Ray Ok, Hotel Alpha 8, Whisky X-Ray, 5, 9, QSL Roger, my friend, thank you for 5, 5 and Happy New Year, bye bye Ciao 73 Ciao 73, Guerra Z Oscar Echo 5, Alpha Uniform Lima Ok, Oscar Echo 5, Alpha Uniform Lima, 5, 9 Yeah, QSL, good morning, this is OE5, I'm sorry, it's OE5 Yeah, 5 and 7, 5 and 7, QSL QSL, my friend, reference Italy, Lima Golf, 3, 4, 0, and Happy New Year, bye bye Yeah, same to you, name is Peter, and thank you for Lima Golf, 3, 4, 0, 76, and Happy New Year to you Ok, thank you Peter, my name is Alessandro, bye 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 bye, Alessandro QR Z Sierra Papa 9, Echo Tango Alpha Ok, Sierra Papa 9, Echo Tango Alpha, 5, 9, QSL Thank you, 5 by 9 for you, 5 by 9, 23, thank you for the participation Thank you to you, my friend, and Happy New Year That's a bomba la Polonia CQ, 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 Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, CQ Sota Happy New Year, Papa Mike Fox, Hotel Bravo 9, Papa Mexico Fox Ok, Hotel Bravo 9, complete your call, thank you Roger, Roger, Hotel Bravo 9, Papa Mexico Fox, Papa Mexico Foxtrot, Roger Roger, Hotel Bravo 9, Papa Mexico Foxtrot, 5, 9, your report, reference Italy, Lima Golf, 3, 4, 0, QSL Roger, 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 you're also 5 and 9, you're also 5 and 9, here in the High Mountains from Switzerland Thank you for the Sota Point, on 73, ciao ciao Ciao, grazie, buon anno, Happy New Year, bye 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 Siku Sota, Siku Sota, Siku Sota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, Siku Sota India, Giulietta Lima, Hotel Bravo 9, eco Victor Sierra Ok, Hotel Bravo 9, eco Victor Sierra, corretto? Hotel, Hotel, 3 in 5, 3 in 5, in the near from Zurich in Switzerland, Hotel Bravo 9, eco Victor Sierra Ok, 5, 9, your report, Hotel Bravo 9, eco Victor Sierra, 5, 9 and happy New Year, bye 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 India, Giulietta Lima Ok, India, Giulietta Lima, avanti India, November 3, India, Giulietta Lima Ok, India, November 3, India, Giulietta Lima Scuso, posso passare avanti lo Svizzero 5, 9 con gli auguri di buon anno, QSL QSL, QSL, 5, 9 per il logo che per te Il segnale è quasi inesistente, però comprensibilissimo la modulazione Ciao, risentirti Guarda, ti garantisco, tu invece mi arrivi 5, 9 e più 10 Arrivi veramente bene Ciao e grazie ancora QSL, Italia Zulu 4, Victor, Quebec Sierra, portatile QRP Fa chiamate in banda a 40 metri, attivazione SOTA Chiama e passi in ascolto A presto 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 Grazie a tutti